100 milioni di rupie, più di un milione di euro, ai familiari delle vittime e non se ne parli più. La Corte Suprema dell'India ha chiuso tutti i procedimenti giudiziari a carico di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due fucilieri della Marina italiana accusati dal 2012 dell'omicidio di due pescatori del Kerala. Vicenda diventata un caso diplomatico molto complicato con i governi indiano e italiano che per anni hanno litigato su chi doveva giudicare i due Marò. L'Italia aveva deciso l'anno scorso la Corte Permanente di Arbitrato dell'AIA, aggiungendo però che l'India andava risarcita. Per anni i due sotto ufficiali sono rimasti detenuti in India senza processo. La macchina giudiziaria indiana è ancora più inceppata della nostra. Poi sono rientrati in Italia. Nel 2014 la Torre, che ha avuto seri problemi di salute. Nel 2016 Girone. E adesso dovranno affrontare l'inchiesta italiana. Il sostituto procuratore di Roma, A Meglio, li ascolterà nelle prossime settimane. Il 15 febbraio 2012 i due sotto ufficiali erano sulla petroliera Enrica Lexi a fare da scorta armata, quando, a largo delle coste del Kerala, incrociavano un peschereccio che, stando al loro racconto, faceva manovre sospette, tanto da confonderlo con una nave pirata. Avevano sparato dei colpi e due pescatori, Gelestin, 45 anni, e Pinku, 22, erano morti. Poco dopo la disgrazia, i familiari delle vittime e il proprietario del peschereccio avevano ricevuto circa 300.000 euro dal governo italiano.